secondo match del pomeriggio della seconda giornata del Memorial internazionale Giuseppe Augiello di fronte Inter e Stella Rossa Inter ancora Zalli lungo rilancio a cercare Poku buono lo stop l'esecuzione per Zanelli Zanelli prova a liberarsi al tiro Zanelli per Poku ha un po' di spazio Poku e poi la torre incredibile opportunità la palla in rete con il destro ha segnato Mattia la torre Inter in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco decisivo l'inserimento di Poku sul rimpallo il più veloce di tutti è stato la torre Demilato toccherà all'indietro per Poku che sta per prendere una brevissima rincorsa Poku con il destro ha provato la conclusione sopra la barriera nonostante il tocco lo stacco di Demilato che allontana il pallone e adesso con appena un minuto e mezzo di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo che arriva in questo momento l'arbitro fa rispettare la distanza della barriera vuole almeno un passo indietro va Demilato con il sinistro si distende la portiera il secondo della stella rossa odierno va a vedere Bielic è ancora lui che recupera la sfera si gioca sarabbia anche Marco Sala vuole più decisione da parte dei suoi ragazzi che però stanno tranquillamente controllando il risultato anche se l'1-0 non certo risultato rassicurante Poku prova a scappare Poku tiene botta sulla contrasto Poku uno contro uno in area di rigore va via ancora Poku al centro perfetto il pallone per Jannello la traversa di Jannello ma si continua con Ballabio l'errore da parte di Stefanovic a campo aperto Poku Poku Puttaiti uno contro uno Poku pallone sul destro va via Poku e poi conclude in diagonale gli tocca il pallone Iti sarà corner ancora per l'Inter e arriva il rinvio che di fatto determina la conclusione della partita Inter batte Stella Rossa 1-0 e grazie alla rete di la torre al sesto minuto raggiunge la nuova tortre testa in testa al girone C del torneo Memorial Internazionale Giuseppe Augiello grazie a questa vittoria quattro punti come la nuova tortre testa Verona 2 Stella Rossa 0 eliminazione per la squadra di Belgrado dopo due partite è tutto ci risentiamo tra poco con la sfida tra Torino e Lupa Roma come la ruota è tutto cielfe Grazie a tutti